Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione sulla Divina Commedia di Dante Alighieri. Oggi parleremo del Purgatorio, in particolare parleremo del canto sesto del Purgatorio. Il canto sesto del Purgatorio, così come il canto sesto dell'Inferno e così come il canto sesto del Paradiso, è un canto politico. Nel canto sesto dell'Inferno Dante aveva parlato della politica fiorentina di Firenze, la città divisa, la città partita che vive nell'odio e nella violenza e quindi era stata appunto collocata nell'odio e nella violenza dell'Inferno. Qui nel Purgatorio Dante parlerà della situazione dell'Italia che è devastata dalle guerre ed infine nel Paradiso Dante parlerà dell'Impero, la perfetta istituzione politica che appunto si colloca nella perfezione dei cieli del Paradiso. In questo canto si colloca la celebre Apostrofe all'Italia, cioè un passaggio nel finale del canto dove Dante si rivolge direttamente all'Italia e la accusa di essere letteralmente un bordello, di non essere più una padrona di province, una signora nei confronti del mondo, ma di essere diventata un luogo di caos, di confusione, dove non ci sono più le leggi, dove bisogna vergognarsi addirittura di abitare. Ma non dobbiamo fraintendere, questa Apostrofe all'Italia non va letta in senso patriottico come pure è stato fatto negli anni del Risorgimento, perché Dante è un uomo politico del Medioevo, ha una sua fede universalistica, non è il paladino di un'idea nazionale italiana che ancora non esiste, non è un precursore dell'unità d'Italia. Il suo ideale politico, e lo vediamo proprio all'interno di questa Apostrofe all'Italia, è quello dell'impero, un impero universale e voluto da Dio. L'Italia, di cui qui in questo canto troviamo immagini di grande efficacia, retorica, e sono immagini che commossero moltissimo gli uomini del nostro Risorgimento, che appunto stavano facendo l'unità d'Italia, non è la nazione in senso moderno, ma è il giardino dell'impero, cioè appunto una parte importantissima, bellissima, fertile, ma comunque una parte dell'impero. Ma dov'è che si colloca questo canto? A che punto del suo viaggio è arrivato Dante? Beh, Dante è ancora piuttosto indietro, non è ancora arrivato neanche ad entrare nel purgatorio, si trova ancora nell'antipurgatorio, e più precisamente nella seconda balza dell'antipurgatorio, dove ha ancora a che fare con tutte le schiere dei negligenti, in particolare dei morti per violenza. Voi sapete che gli spiriti negligenti sono coloro che rimangono nell'antipurgatorio per un tempo equivalente al tempo trascorso nel peccato prima di pentirsi. Quindi, se hanno commesso un peccato ed hanno trascurato di fare la confessione, di confessarsi, di pentirsi, di ottenere così l'assoluzione, e hanno vissuto nel peccato, e alla fine della loro vita, proprio in punto di morte, hanno deciso di pentirsi, beh, tutti quegli anni che hanno vissuto nel peccato li devono scontare qui, nell'antipurgatorio. Tutti questi spiriti negligenti si accalcano sempre intorno a Dante, chiedendo a lui una cosa sola, di essere ricordati nel mondo dei vivi, perché hanno bisogno delle preghiere dei vivi per accorciare il tempo che devono passare in purgatorio. A questo punto Dante, in questo canto, chiede spiegazioni a Virgilio rispetto a questo discorso delle preghiere di suffragio. Infatti, dice Dante, io ho letto l'Eneide, ma leggendo l'Eneide sembrerebbe chiaro che i voti, i desideri, le preghiere degli uomini non possono modificare i decreti divini. A questo punto Virgilio risponde a Dante dicendo che è vero, questo era così quando scrivevo io, perché parlavo di anime dei pagani, ma adesso voi non siete più pagani, ma siete cristiani. E quindi, siccome siete credenti nella vera fede, l'ardore di carità che è insito nelle preghiere degli esseri umani può davvero abbreviare il tempo dell'espiazione, il tempo del purgatorio. Questo ovviamente non significa che il giudizio di Dio venga mutato o condizionato. Comunque Virgilio invita Dante ad attendere con pazienza perché quando arriverà da Beatrice, ecco, sarà lei che potrà chiarirgli ogni dubbio perché si tratta di una questione molto complicata e Beatrice gliela potrà spiegare meglio di Virgilio. Appena sente il nome di Beatrice, ovviamente Dante si rassicura ed è molto felice, non vede letteralmente l'ora di arrivare al paradiso terrestre e quindi i due si affrettano per arrivare alla porta del purgatorio. Stanno cercando quindi la strada più breve per salire alla terza cornice dell'antipurgatorio, ma non riescono a trovarla. È qui che si colloca all'incontro con un'anima, che è quella di Sordello d'Agoito. Trovano quest'anima seduta da una parte molto tranquilla, sola, soletta, dice Dante, che li sta guardando e non si sarebbe neanche alzata per chiedere qualcosa a Dante. Si vede che questa è un'anima diversa rispetto a quelle che hanno appena incontrato. È un'anima altera, un'anima fiera, un'anima dignitosa. Un vero signore, da come ce lo descrive Dante. Virgilio decide di chiedere informazioni a quest'anima per sapere qual è la strada più breve per raggiungere la cornice successiva. Si avvicina e appunto gli fa questa domanda. L'altro, l'anima, li guarda un attimo, ma non risponde immediatamente alla domanda. Prima vuole sapere con chi sta parlando e quindi li chiede chi sono e da dove vengono. Appena Virgilio sta cominciando a rispondere, da dove vengo, quindi lui pronuncia la parola mantua, cioè mantova, appunto, il suo luogo di provenienza. Ecco, appena Virgilio ha pronunciato questa parola, improvvisamente quell'anima, che sembrava così seria, così tranquilla, così posata, si alza immediatamente e lo abbraccia, dicendo appunto che anche lui viene dalla stessa città. Si abbracciano i due proprio perché provengono dalla stessa terra. Ecco, questa è la scusa che Dante prende per poter iniziare la sua famosa invettiva all'Italia. Fa infatti un confronto per differenza tra l'atteggiamento amichevole, amorevole, fraterno di questi due mantovani che non si conoscevano affatto. Virgilio è un poeta del primo secolo, che è vissuto tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Sordello è un poeta anche lui, il maggior poeta in provenzale italiano, ma è vissuto nel 1200. Ecco, quindi questi due non si sono mai incontrati, ma solo il fatto di provenire dalla stessa terra li fa sentire fratelli. Ecco, quindi Dante, dicevo, instaura una contrapposizione tra quest'amore fraterno, tra i due che appunto provengono dallo stesso luogo, e quello che succede invece nel resto dell'Italia, dove ci si odia, dove ci sono lotte, dove all'interno delle città i cittadini si scannano, si uccidono, perché semplicemente appartengono a fazioni diverse, a partiti differenti. E vedremo appunto nella nostra analisi proprio quest'ultima parte del canto, la famosa apostrofe all'Italia preceduta dall'incontro con Sordello d'Agoido. Ed eccoci infatti ai versi che ci interessano. Al verso 58 del sesto canto, infatti, inizia l'incontro con Sordello. I due abbiamo detto che stanno cercando la strada giusta, non la stanno trovando, quindi Virgilio vede l'anima di Sordello e chiede informazioni. Ma vedi là, dice Sordello, un'anima posta sola soletta in verso a noi riguarda. Quindi c'è quest'anima che li sta guardando, è lì solo, isolato, quindi non fa parte della schiera dei morti per violenza, che Dante ha appena lasciato, è molto più probabile che questa anima si stia perrecare anche lei nella terza balza, dove si trova la valletta dei principi. Infatti Sordello è un'anima che è molto importante da questo punto di vista. Il suo componimento più famoso è il compianto in morte di Sir Blacats. In questo plan, in questo compianto, Sordello condannava la codardia degli uomini politici del suo tempo, invitandoli a cibarsi del cuore del nobile provenzale Blacats per acquisire il valore e il coraggio che essi non hanno. Quindi come vedete anche lui è un uomo che di politica si intendeva ed era a casa sua tra i principi. Ecco perché Dante lo incontra lì e poi nel canto successivo sarà Sordello stesso ad accompagnarlo proprio nella valletta dei principi. Quindi, dice Virgilio, c'è quest'anima là che si trova sola sola che sta guardando verso di noi quella ne insegnerà la via più tosta quella ci indicherà la via più veloce per arrivare nell'altra balza. Venimmo a lei quindi i due si avvicinano a quest'anima. Dai due punti in poi a partire appunto quindi dai due punti del verso 61 fino a tutto il verso 66 noi abbiamo un ricordo di Dante infatti qui a parlare non è Dante personaggio ma è il Dante narratore che dopo aver finito il viaggio sta raccontando quello che gli è successo e in questo caso ci sta descrivendo come gli era apparso Sordello d'Agoito. Questo lo capiamo dalla parola lombarda infatti loro ancora non hanno parlato con quest'anima e Dante personaggio non potrebbe sicuramente sapere che si tratta di un lombardo è il Dante narratore che sa già tutto e che si ricorda come si poneva quest'anima. O anima lombarda quindi comincia questo ricordo come ti stavi altera e disdegnosa e nel muover degli occhi onesta e tarda. Ecco questa descrizione di un'anima così altera così fiera e così disdegnosa quindi così sdegnosa che si tiene lontano dagli altri è una descrizione che non può non far venire alla mente la descrizione altrettanto importante di Farinata degli Uberti che noi abbiamo ritrovato nel decimo canto dell'inferno e vi invito ad andare a vedere quel video se non vi ricordate di lui. Anche Farinata degli Uberti ci diceva Dante Sergea col petto e con la fronte come avesse l'inferno a grandi spitto quindi anche lui era un'anima altera un magnanimo che aveva l'inferno a grandi spitto quindi sdegnava il fatto di trovarsi all'inferno. E poi ecco anche nel verso 63 quest'anima muove gli occhi e soltanto a vedere come li muoveva perché poi era ferma era seduto non si stava muovendo l'unica cosa che muoveva erano gli occhi e li muoveva in maniera onesta cioè dignitosa nobile e lenta tarda non è una persona che si affretta che si affanna è molto diverso dalle anime che Dante appena ha incontrato che appunto lo avevano accerchiato per chiedergli di ricordarli ai vivi. Ella non ci dicea alcuna cosa quindi sta lì silenziosa e li avrebbe lasciati passare ma lasciava negir quindi ci avrebbe lasciato passare solo sguardando a guisa di leon quando si posa soltanto guardandoci come un leone quando si riposa ecco anche il fatto di paragonare sordello ad un leone ci dà proprio l'idea di una persona magnanima di una persona altera di una persona fiera eppure dice Dante Virgilio si avvicinò a lei pur Virgilio si trasse a lei pregando che ne mostrasse la miglior salita e quella non rispose al suo domanda al suo dimando quindi è un'anima che non parla con chiunque prima di rispondere alla domanda di Virgilio vuole sapere con chi sta trattando e infatti ci dice Dante di nostro paese e della vita cinchiese e il dolce duca quindi Virgilio il duca è sempre Virgilio colui che conduce la guida di Dante che in questo momento viene definito dolce incominciava quindi lui stava incominciando a parlare in maniera molto dolce in maniera suave poiché si ricorda della sua patria della sua terra nativa e quindi comincia a dire mantua vedete con la dieresi sulla U di mantua quando Dante usa la dieresi sempre perché vuole mettere in evidenza la parola mantua quanto è importante mantova per Virgilio appena ha pronunciato questa parola che l'ombra che prima era tutta in serromita cioè era raccolta in se stessa surse per lui del loco vepriastava si alza improvvisamente balza letteralmente in piedi dicendo o mantoano io sono sordello della tua terra perché in effetti Goito è una cittadina vicino a mantua e l'un l'altro abbracciava ecco il gesto di fratellanza tra questi due che non si conoscono non si sono mai visti eppure solo per il fatto di essere nati di provenire dalla stessa città si sentono fratelli e anche in questo caso vi prego di ricordare quello che abbiamo detto nel canto decimo dell'inferno quando i due personaggi Dante e Farinata all'inizio sono nemici anche se vengono tutti e due da Firenze ma si pongono come avversari e poi dopo però dopo l'intervento di Cavalcanti e dei Cavalcanti l'atmosfera cambia Dante e Farinata si ritrovano anche loro non voglio dire amici ma comunque si sentono in qualche modo fratelli si sentono in modo in qualche modo accomunati dal comune amore per Firenze e dal comune destino d'esilio che li aspetta che ha già vissuto Farinata e che sta aspettando Dante e qui dal verso 76 inizia la famosa apostrofe all'Italia Dante come ho detto prima prende come scusa questo abbraccio per indicare come purtroppo in Italia la fratellanza sia completamente scomparsa e ci sia soltanto odio guerra e distruzione e comincia in maniera estremamente potente ai serva Italia di dolore ostello quindi che raccogli se è un luogo pieno di dolore nave senza nocchiere in gran tempesta non donna di province ma bordello in questa prima terzina già subito troviamo due paragoni Dante infatti paragona l'Italia prima ad una nave senza il nocchiere quindi una nave senza la sua guida quando è nel mezzo di una grande tempesta e noi sappiamo come il mare venisse considerato in quell'epoca un luogo di pericolo un simbolo di grande pericolo e poi prosegue con un altro paragone quindi prima l'Italia è paragonata ad una nave senza guida nella tempesta e poi è paragonata letteralmente a un bordello mentre prima era signora perché donna vuol dire questo vuol dire signora padrona di province di tante terre adesso è diventato semplicemente un bordello un luogo di prostituzione quell'anima gentile dice Dante fu così presta così rapida così veloce e pronta sol per lo dolce suon della sua terra vedete che ritorna all'aggettivo dolce prima l'avevamo visto in dolce duca quando Virgilio aveva appunto pronunciato dolcemente il nome di mantua il dolce suon della sua terra e qui non possiamo non ricordarci ciacco che nel sesto canto dell'inferno l'altro canto politico che abbiamo letto qualche tempo fa parlava appunto del dolce mondo quando si usa l'aggettivo dolce nella divina commedia c'è sempre questo senso fortissimo di nostalgia di amore per qualcosa che si è irremediabilmente perduto quell'anima dunque fu così rapida così pronta solo per aver sentito il dolce nome della sua terra di fare al cittadin suo qui vi festa e ora in te dice all'italia non stanno senza guerra li vivi tuoi e l'un l'altro si rode di quei c'un muro e una fossa serra tutti si sono rinchiusi tra le mura tra le fosse hanno costruito le mura le varie città i vari castelli hanno scavato fossati per difendersi e continuano a lottare l'uno contro l'altro i vivi dell'italia cerca misera intorno dalle prode le tue marine e poi ti guarda in seno se alcuna parte in te di pace gode la pace in italia è una merce che non esiste non ce n'è più né sulle coste né all'interno né nelle regioni interne che val perché ti racconciasse il freno giustiniano se la selle è vota s'anzesso fora la vergogna meno ecco in questi versi Dante sta parlando di giustiniano il grande imperatore dell'impero romano d'oriente vissuto nel sesto secolo dopo Cristo che era noto avesse creato il corpus iuris civilis quindi l'insieme delle leggi del diritto civile che erano appunto state raccolte su indicazione di giustiniano e che costituivano la base del diritto romano che vale dunque che giustiniano ti raccorciasse il freno cioè ti avesse dato delle leggi se la sella è vuota in questi versi Dante fa un terzo paragone abbiamo detto l'Italia prima viene paragonata a una nave senza il nocchiero nella tempesta poi a un bordello adesso la paragona ha un cavallo imbizzarrito un cavallo che era stato domato da giustiniano giustiniano gli aveva risistemato il freno cioè il morso in maniera appunto che ci fosse una regola che l'Italia rispondesse e obbedisse alle giuste leggi ma purtroppo adesso la sella è vuota quindi non c'è un imperatore che la guidi ed ecco che il cavallo che è l'Italia si è imbizzarrito è diventato selvaggio se giustiniano non ci avesse dato le leggi ci dovremmo vergognare di meno dice Dante agli italiani perché noi che le leggi le abbiamo create che le abbiamo per la prima volta fatte e scritte adesso non le rispettiamo quindi dobbiamo letteralmente vergognarci hai gente che dovresti essere devota quindi non soltanto in questa prima parte Dante se la rifà con gli italiani che lottano tra loro che non rispettano le leggi ma adesso se la sta prendendo anche con la chiesa con la gente della chiesa con gli ecclesiastici la gente che dovrebbe essere devota sono loro e lasciar seder Cesare in la sella sebbene intendi ciò che Dio ti nota Dio nella Bibbia aveva detto anzi meglio Cristo nel Vangelo aveva detto chiaramente dai a Cesare quello che è di Cesare quindi il Papa la chiesa dovrebbe lasciare che Cesare cioè l'imperatore sieda sulla sella di questo cavallo imbizzarrito perché è così che ha voluto Dio così che ha voluto Cristo e invece non lo fa il Papa è il responsabile il primo responsabile del fatto che l'Italia è diventata un cavallo imbizzarrito e non c'è più nessuna legge perché non consente al Cesare non consente all'imperatore di prendere le redini di sedere sulla sella di questo cavallo guarda dice Dante alla gente di chiesa guarda come esta fiera questo cavallo ormai selvaggio la fiera è un animale selvaggio è fatta fella cioè è diventata ribelle e anche cattiva per non essere corretta dagli sproni e gli sproni sono gli speroni che i cavalieri mettono sugli stivali che sporgono dai talloni per correggere appunto e per indirizzare meglio il cavallo per non essere corretta dagli sproni puoi che ponesti mano alla predella cioè dal momento in cui la chiesa il Papa ha voluto prendere il posto dell'imperatore e tenere lui in mano la predella cioè le redini le briglie del cavallo ecco questo cavallo è diventato un cavallo selvaggio e anche cattivo ribelle proprio perché il Papa non è in grado di controllarlo è un cavaliere che non sa controllare il suo destriero dovrebbe lasciare il posto a chi è bravo a farlo cioè appunto all'imperatore terminate le accuse contro la gente di chiesa il Papa ovviamente in primo luogo adesso Dante si scaglia contro l'imperatore perché certo la causa prima dei mali dell'Italia sarà la chiesa ma anche l'imperatore ci ha messo del suo e infatti comincia subito così o Alberto tedesco ecco Dante si sta rivolgendo all'attuale re di Germania Alberto d'Asburgo che era diventato imperatore poco prima del 1300 e lo sarà fino al 1308 ma che in Italia non ci veniva assolutamente mai per questo lo chiama Alberto tedesco perché lui stava in Germania non soltanto perché era uno della casata degli Asburgo quindi oggettivamente un tedesco ma proprio perché lui in Italia non ci veniva rimaneva esclusivamente su in Germania e cosa fa quindi Alberto il tedesco Alberto abbandona i costei quindi abbandona l'Italia che è fatta indomita e selvaggia non è più un animale domestico è diventato un animale indomito un animale selvaggio e invece che cosa dovrebbe fare Alberto l'imperatore Alberto dovrebbe inforcarli i suoi arcioni cioè salirci in sella e governarla a questo punto Dante non ci va più tanto per il sottile il fatto che l'imperatore non venga mai in Italia lui proprio non va nessun ne giù e scaglia letteralmente un accidente contro l'imperatore giusto giudicio dalle stelle caggia sentite la G come rimbomba abbiamo una forte all'iterazione della G che è proprio questa caduta come una pioggia del maledizione che Dante sta scagliando contro Alberto tedesco e contro la sua famiglia che cada dal cielo una giusta punizione quindi dalle stelle dal cielo cada su di te una giusta punizione ma non solo su di te anche sovra il tuo sangue e che questa punizione sia eccezionale straordinaria nuova e soprattutto che sia aperta cioè chiara che tutti si possano rendere conto che se la casata degli Asburgo è stata punita da Dio è stata punita perché non è mai venuta in Italia non si è curata dell'Italia tal che il tuo successor temenza naggia cosicché il tuo successore ne abbia timore e non faccia come te quindi cominci a riprendersi in carico l'Italia cavete tu e il tuo padre sofferto per cupidigia di costà distretti che il giardin dell'imperio sia diserto quindi qui appunto ripete che tu Alberto ma anche tuo padre l'imperatore precedente Rodolfo d'Asburgo per cupidigia cioè semplicemente per una questione di interesse siete rimasti sempre costà cioè lassù in Germania e non siete mai venuti fino in Italia e avete lasciato abbandonato deserto quello che è il giardino dell'impero e qui abbiamo la quarta e ultima cosa che dobbiamo ricordare sull'Italia un altro paragone l'Italia abbiamo detto è stata prima paragonata ad una nave senza nucchiero in mezzo alla tempesta è stata paragonata a un bordello è stata paragonata ad un cavallo imbizzarrito e scusate non l'ho detto prima lo aggiungo adesso ricordatevi che Dante era stato anche lui cavaliere aveva combattuto a Campaldino a cavallo e quindi di cavalli se ne intendeva ecco perché il paragone con il cavallo è così importante in questo canto adesso dicevo abbiamo il quarto paragone quello del giardino l'Italia è il giardino dell'impero cioè la parte più bella dell'impero certo l'imperatore ha il suo palazzo la sua casa in Germania è la che abita ma l'Italia è il giardino la parte più fertile la parte più bella vieni a vedere Montecchi e Cappelletti Monardi e Filippeschi uom senza cura color già tristi e questi con sospetti sempre continua quest'apostrofe contro l'imperatore che non viene in Italia a sistemare le cose e Dante qui sta parlando di famiglie importanti di famiglie nobili italiane che si scontrano che si combattono l'una contro l'altra e non possiamo non notare che al verso 106 Dante cita i Montecchi e i Cappelletti che poi Shakespeare riprenderà i Montecchi e i Capuleti come protagonisti della sua tragedia Roma e Giulietta evidentemente anche Shakespeare aveva letto e come la Divina Commedia di Dante o comunque la conosceva bene vien crudel vieni e vedi la pressura di tuoi gentili e cura loro magagne quindi lo definisce addirittura uomo crudele l'imperatore è un uomo crudele che dovrebbe venire in Italia a vedere qual è la condizione di oppressione dei suoi signori i suoi gentili e di porre rimedio quindi ai loro problemi ai loro guasti alle loro magagne e se venisse l'imperatore allora vedrebbe tutte queste magagne dice vieni crudele a vedere Santa Fior com'è oscura ecco parla di Santa Fiora una cittadina che noi che abitiamo nel Senese conosciamo benissimo perché si trova sul Montamiata in quell'epoca là Santa Fiora che era un castello degli Aldobrandeschi era passata al comune di Siena e quindi diciamo che era in quel momento una situazione molto difficile ma io credo anche che Dante abbia scelto Santa Fiora come esempio di città in difficoltà per due ragioni oltre che per questa che vi ho appena detto per altre due ragioni la prima è che ha parlato del giardino dell'impero e quindi ovviamente ci sta bene parlare di una cittadina che ha nel suo nome il fiore una città che prima era un fiore del giardino adesso invece è completamente appassita e poi io sento in questo Santa Fiora rimbombare il nome Fiorenza il nome Firenze anche Firenze sarebbe stata una perla un fiore dell'impero e invece adesso è oscura è in difficoltà e non solo le città meno importanti sono in difficoltà ma anche Roma vieni a vederla tu a Roma perché Roma dovrebbe essere la città più importante per l'imperatore del sacro romano impero germanico la tua Roma che piagne quindi ovviamente c'è una personificazione di Roma che piange che è vedova quindi è senza il suo sposo senza l'imperatore è sola e di e notte chiama e ti chiama sia di giorno che di notte Cesare mio perché non mi accompagni perché non vieni da me vieni a veder la gente quanto sama e se nulla di noi pietà ti muove avvergognarti viene della tua fama ecco vieni a vedere in che condizioni siamo e se proprio non ti deve muovere la pietà di noi almeno vieni a vergognarti per quello che si dice di te perché qui in Italia ormai la tua fama è completamente screditata al verso 117 dove siamo arrivati adesso termina questa parte dell'apostrofe contro l'imperatore e se contate bene il primo verso in cui si era scagliato contro Alberto tedesco era il 97 quindi dal 97 al 117 per ben 20 versi Dante ha insistito a specificare una per una le magagne dell'Italia e soprattutto l'assenteismo dell'imperatore che avrebbe dovuto porre mano a questa cosa ecco si vede proprio che il tema dell'imperatore mancante a lui sembra importantissimo tant'è vero che in quest'anni lui stimola chiede in continuazione all'imperatore chiederà appunto all'imperatore successivo ad Arrigo VII di scendere in Italia di venire in Italia a rimediare quando Arrigo VII finalmente scenderà Dante si schiererà ovviamente dalla sua parte quindi abbiamo visto Dante scagliarsi contro gli italiani scagliarsi poi contro la chiesa scagliarsi contro l'imperatore e abbiamo visto con quanta forza con quanta verve e adesso chi manca beh ovviamente manca Dio e se licito me dice Dante o sommo Giove o sommo Dio che fosti in terra per noi crucifisso che addirittura ti sei fatto uomo e ti sei fatto crocifiggere per noi ma adesso che noi abbiamo bisogno di te dove sei? sono gli giusti occhi tuoi rivolti altrove forse stai guardando da un'altra parte ma dove stai guardando o è preparazione che nell'abisso del tuo consiglio fai per alcun bene in tutto dell'accorgere il nostro scisso o forse tu nell'abisso del tuo consiglio e vi faccio notare l'enjambement che mette in evidenza la profondità l'ampiezza la profondità del consiglio divino del pensiero divino giù in profondo nell'abisso del tuo consiglio del tuo pensiero forse tu una ragione ce l'hai forse tu trascuri l'Italia non guardi all'Italia consenti che in Italia ci siano tante ingiustizie forse un tuo pensiero ce l'hai un motivo per cui lo fai c'è ed è sicuramente un motivo di bene però noi esseri umani non possiamo accorgercene non possiamo conoscere gli abissi del pensiero divino possiamo solo sperare che come appunto ci dice la concezione figurale che nel medioevo era tanto diffusa tutto succeda per un motivo che nulla accada per caso quindi anche il fatto che in Italia ci siano tante devastazioni e tanti odi forse per un bene per alcun bene per una motivazione positiva che noi però purtroppo non possiamo capire non possiamo vedere perché continua Dante le città d'Italia tutte piene sono di tiranni quindi le città italiane non sono più democratiche non c'è più la libertà sono comandate da dei tiranni che tolgono la libertà alle persone e peggio ancora e qui Dante dimostra tutta la sua scarsa tolleranza lui è uno che anche se ha sostenuto un governo di popolo in Firenze quando è stato politico a Firenze comunque sia sempre stata una persona che poi frequentava delle compagnie altisonanti andava a giro con i cavalcanti con Guido Cavalcanti con Forese Donati con le grandi famiglie quindi ha un po' la puzza sotto il naso nei confronti di questi villani cioè di questi campagnoli uomini di campagna che arrivano in città fanno i soldi e pensano di essere chissà chi lo ribadirà anche nel canto del paradiso il canto di Cacciaguida quando parla della gente nuova e dei subiti guadagni con tanto disprezzo e anche qui questo disprezzo si sente fortissimo e un Marcello diventa ogni villan che parteggiando viene ogni coltadino ogni villano appena arrivato in città comincia a partecipare alle lotte di partito e diventa un Marcello cioè diventa un generale diventa un comandante diventa una guida ecco qui al verso 126 si conclude il nostro lavoro questi sono i versi che vi chiedo di studiare ma non voglio lasciarvi prima di avervi fatto notare come Dante ovviamente abbia lasciato per ultima l'argomentazione che gli interessa di più per ultima ovviamente tira in ballo Firenze è a lei che si rivolge e le si rivolge con un sarcasmo così polemico che inizialmente sembra proprio che neanche la prenda in considerazione che non voglia criticarla Fiorenza mia ben puoi essere contenta di questa digression che non ti tocca buon per te cara Fiorenza che questa volta non sei toccata dalla mia polemica ma invece ovviamente non è così perché infatti Dante conclude questa sua inventiva contro l'Italia rivolgendosi in questo modo così polemico e con sarcasmo con ironia a Firenze e ai suoi concittadini i suoi concittadini sono sempre solerti vedete si argomentano quindi si danno sempre da fare sempre solerti per cercare di assumere però cariche pubbliche non solerti nel senso di agire per il bene ma cercare di ottenere privilegi sfruttando così al loro vantaggio le cariche pubbliche infatti i cittadini di Firenze vengono definiti privi di qualunque senso di giustizia ed è per questo dice Dante che sono continuamente a cambiare idea mutano continuamente le proprie decisioni i propri decreti la stessa cosa se ci pensate bene che aveva detto anche Dino Compagni il grande cronista fiorentino che è coetaneo di Dante che ha fatto politica a Firenze nella seconda metà del 1200 e che ha scritto un'importante cronaca di Firenze di cui abbiamo parlato quando abbiamo fatto la lezione sul comune largo a Firenze ecco Compagni dice esattamente la stessa cosa dice ogni cosa decisa un giorno viene disfatta il giorno dopo e parla della corruzione dei politici fiorentini e Dante politico nello stesso periodo vedete che ha la stessa identica idea la città quindi secondo Dante è simile ad un'ammalata un'ammalata che crede di trovare tregua al suo dolore cambiando posizione nel letto in cui giace e questa immagine di un malato che si rigira continuamente e inutilmente nel letto non può che riportarci alla mente di nuovo il canto sesto dell'inferno dove appunto i dannati si continuavano a girare nel fango per cercare di soffrire un po' meno bene e con questo noi abbiamo concluso per oggi io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione di soffrire